Oggi ad onore l'inaugurazione di un'opera pubblica ma soprattutto l'intitolazione di un percorso a una persona che ha fatto tanto per il territorio. Sì, oggi è veramente una giornata importante per il nostro territorio, andiamo a inaugurare il rifacimento del ponte ciclopedonale tra onore fino del monte, un ponte totalmente nuovo realizzato in materiale più durevole, un'opera che tra ponte e opere complementari ha raggiunto i 120.000 euro, cofinanziata dalla comunità montana Valle Siriana e dal Bindeloglio che ovviamente ringraziamo. Un'opera frutto della collaborazione e dell'idea dell'amministrazione comunale e poi della collaborazione con la parte tecnica, i progettisti, le aziende che l'hanno veramente realizzata in pochissimo tempo e di questo ne siamo contenti. A fianco dell'opera materiale però che è importante proprio perché collega due comunità, abbiamo deciso di intitolare tutto il percorso ciclopedonale che da via Volpera raggiunge il parco Ressa fino del monte a Gianluca Balduzzi, un imprenditore del nostro territorio scomparso nel 2020 a causa del Covid-19 e scomparso durante la pandemia e per questo abbiamo deciso di dedicare proprio questo importante percorso ciclopedonale alla sua figura, un imprenditore, un visionario, un padre, un amico che ha fatto veramente tanto per il nostro territorio e siamo contenti che la famiglia di Gianluca abbia subito accettato di buon grado questa intitolazione e sia stata molto presente oggi, numerosa oggi, all'inaugurazione perché è proprio il simbolo del fatto che Gianluca per il nostro territorio e per le nostre famiglie tanto aveva fatto e tanto la sua azienda continua a fare oggi. Un bell'applauso. Cosa rappresenta questo momento per la vostra famiglia vedere il nome di Gianluca Balduzzi scritto su quella tarca? È un grande onore, l'amministrazione comunale di onore insieme con Michele Schiavi che conosciamo da tempo, hanno avuto una gentilezza che era insperata. Gianluca sicuramente ha fatto tanto per questo territorio, siamo stati molto bene in questo territorio, abbiamo passato degli anni di crescita, di evoluzione che ci hanno portato ad essere quelli che siamo diventati, quindi la presolana che ci guarda, questa pineta dove abbiamo camminato per tanto tempo in cerca di pensieri, in cerca di soluzioni, devo dire che incontrano veramente la nostra vita. Il fatto che qui ci sia un cartello intitolato Gianluca mi fa pensare bene, spero che chi passa di qua, che lo possa leggere, possa in qualche modo ricordarsi di lui e essere permeato dal suo modo di vivere, da questa serenità che era tipicamente sua, piuttosto che essere incoraggiato nella vita, nel trovare, nell'essere forte, nel vivere forte come lui ha sempre fatto. Un ponte è sempre un'opera simbolica che va al di là della struttura in se stessa e soprattutto come in questo caso si unisce due paesi. Sicuramente sì, come in questo caso unisce il paese di onore al Comune di Fino del Monte e poi di conseguenza a tutto l'alto piano di Clusone. In questo caso andiamo a inaugurare un ponte che è intitolato una persona che nella sua vita ha avuto come caratteristica quella di saper unire e di collegare le persone. Nella sua storia ha avuto la capacità di svilupparsi molto sul nostro territorio, ha avuto la visione di riuscire a portare l'imprenditorialità in zone di montagna e quindi di riuscire a mantenere i livelli occupazionali nella nostra zona dando lavoro alla gente del nostro territorio. Quindi nulla di più importante di un ponte per ricordare la figura di Gianluco Balduzzi che in questi anni è veramente stata una persona fondamentale per il nostro territorio.